Internet, anche sul piano personale, è uno strumento fondamentale per poter non solo fare bene il proprio lavoro, ma sentirsi cittadini del mondo. Direi che oggi è un'esigenza ineludibile ed è chiaro che nell'attività amministrativa questo è ancora di più una grande risorsa che può avvicinare direi anche i cittadini, le cittadine alla pubblica amministrazione a sentirsi partecipi, appunto ad essere cittadini del nuovo tempo.